Piovono segnalazioni di cittadini che raccontano episodi di disorganizzazione e di servizi nell'Ulss7. Nel raccoglierle, nel raccontarle, verrebbe quasi da dire che piove sul bagnato perché tanta è la quantità di messaggi che ci arrivano e tanta resta la preoccupazione di cittadini come il signor Piero, un ottantenne di Rosà. Io sono stato all'esternale di Bassano per tre giorni che mi hanno fatto bevare le mie. Vi dico quanto male sono stato là. Una disorganizzazione, racconta il signor Piero, che costringe anche il personale ad arrangiarsi per far fronte alle carenze d'organico e allo spostamento di medici e infermieri nei reparti Covid. Una notte, alle due di notte, soffro di reflusso, ho chiamato un infermiera o una e mi ha detto cosa ha? Ho chiesto male la ronda, ho chiesto, ma è stascia cosa faccio adesso? Chiamo sua moglie che le portano il caramello. Così mi ha risposto. Altri invece continuano a dover far fronte a disagi al punto tamponi. A scriverci la sua storia è il signor Enzo, che da positivo per ben due volte si è recato in ospedale, è stato messo in fila accanto a persone sane, tutto questo in lunghi tempi d'attesa sotto la pioggia. Ora riporterò la vostra disorganizzazione all'attenzione di qualche giornalista. Fatevi un esame di coscienza, signori miei, questa è una vergogna.